Il corpo alza e passa. Quando tu passa, tutto il corpo alza e passa. Quando alza, insieme che alza. Gomito, mano, viene. Una coordinazione, insieme. Avete, c'è una parola? Unito fa la forza. Giusto? C'è questa parola. E questo è unito. A mano, con piedi, facciamo collaborazione. Gomito, noi, collaborazione. L'angra, con spalle, collaborazione. Unito fa la forza. Perché tu hai fatto un allenamento, hai fatto una scorta. Ognuno ha conto suo. Capito? Ognuno ha conto suo. E poi poi dico, la forza sembri pensare. Tu mai pensato? L'angra, piede, trovi con coordinazione. Per questo, la forza manca trasmissione, diventata cosa? Rigidità. Quando io insegno il quang fu, ah, io mi allievo di allenamento. Io prima gli allievo. Allievo, allievo forza, uno veloce. Manca queste tre sezioni, dove vai? Hai capito? Manca queste tre sezioni. Tu dove vai? non può andare a nessuna parte prima di capire bene come utilizzare queste tre parole la mano e il piede tu non hai visto però la sensazione è che alza tutto è alza e poi apri aprire io ho usato la parola aprire la tipa è un modo di dire e il futuro vi spiego è che il significato aprire la tipa